Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video su Big Big House e oggi con l'apertura di ben tre teen antiche battaglie 2021 solo tre perché probabilmente più avanti arriverà qualcosa riguardante i teen, vedremo se mai faremo qualcosa in ogni caso, scusate il casino ma l'abbiamo registrato in negozio mentre sarà c'erano un po' di torneo quindi potrebbero sentirsi delle voci, cose strane, rumori inquietanti vi lascio il video va dai prima busta, prima busta che sta disegnata c'è un caofile carta di meta, carta di meta, carta di meta, carta di meta, carta di meta avanti di peso beh gg artista amico, truppa di torno, come primo ultra ma davvero botta via chi è sta carta? il cestino, il cestino è là vai vai, tirala uno spray? no, non può esserlo ha il testo corto? ha il testo buono o corto? potrebbe essere segnalati in realtà no, no, no potrebbe essere un'altra ultra ah no, questo è il secret che è parallelo pascalus è carino parallelo però e marinsus va bene merda 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 ce l'abbiamo preso il troll ma c'è è proprio il troll che si è perchè due malettine mi ha aiutato a sfruttare se cross out non a dire quella lì va bene merda 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 che hanno già fatto super trap ah no lui non l'ha fatto no penso che la luce diventa questo prima ultra un mostro oh flur uno che mi interessa allora una magia il testo lungo potrebbe essere anche talento troppo lungo ti 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 questo contenuto questo è un gran cosa di spiegamenti questo qua lo trovano tutti in 45 proprio ci sta come giù giù come rara e siamo qui partiamo bene con tutti bel tempo beh va bene merda 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 super call squadra nero brillante si vai se cosa magica questa è carina in realtà ultra ultra beh un altro fuori dei maximus mi piace come le ultra ci interassino di più Nerval delle 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 secret 1 1 2 3 2 3 3 3 3 4 3 si no che sono un casino non ci inganno mai asti cazzo ok 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 ecco questa è nuova? no no è ritratto demoniaco perché ha fatto super le persone che stanno guardando non mi interessa che schifo super è ruga super sono dove ruga questa è ah controller ok magia dio potrebbe essere tt è no troppo lampi fuoco che merda è un'altra magia quella sotto è un mostro di merda deve essere maximus for the least un altro fallen dai è rarissimo questo vabbè segret questo è complesso questo volevamo la seconda rara merda merda poteva fare lo super abbastanza unizia poi non le eserriamo che non le abbiamo saluto quindi siamo in un posto mistico ovvero in vacanza non è proprio l'eserro di vacanza super samurai pesante è caro è caro ci hanno fatto vabbè dovessi essere shanshan ultramostro che c'è un ultra buono ah beh i tribligate è vero questo è una merda tanta merda tira via tira via cos'è? non lo so ah ok ho capito vero loro ci sono un ultra sincro ultra 2004 2002 no non sono i miei queste le statistiche di sucio comunque night ah secret ecclesia parola che culo coyeride e merda ultima dopo apri anche io l'ultima dopo apri anche io no l'ultima dopo apri anche io titan aside ma c'è poi lui sa che non ci avevo fatto caso ma secondo te non l'ho mai visto la tua in segretta dolindana che è riuscita oltre la pacca fai la mano perchè non si vede che è uscita oltre la pacca no mostro 900 proprio lui non mi ricordo chi quad bubble ombra chaos quella che non vuole nessuno dammi un XS dammi un XS che mostri di nera nera dai come secret ecclesia vabbè lui forse vale dei soldi forse e vabbè ciao perchè non hanno fatto lui il secret vabbè vieni qua i piccolini merda 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 vabbè roland super perchè non hanno fatto il charge e wendy wendy e se ma cosi ti spoileri se c'è il corso di sinietro che lo spoiler devi prendere qua che schifo e e bravo 25-2000 che cazzo di fusione ooooh e vides tipo no mancava la seconda neanche male aspetta ttt per adesso vediamo ttt lo troveremo dai merda 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 comunque merda 2 vediamo mostro l'altro funeo falbat 600-1600 che schifo come fa l'azzo beh che schifo un mercato dei cajoni dai vabbè magia attenzione testo lungo sabbataggio del mar oh ma stai andando a dire magia di merda cioè 1500-1500 e che sia 1500-2500 eccola qua siiii pita bambina la secret più costosa la mia barina si e poi dai 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 ultimo gusto ultimo gusto è poetico trovare quale cosa aria ok magia 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 mostro 1800 mech cavaliere e non sta tantissimo trappola madonna che schifo vera luce vera luce vera luce vera luce vera luce beh trappolina oh troppo lunga troppo lunga rivolta tribrigata forse mi mancava la terza non vale tanto ma non si è molto al cazzo cc andiamo a prendere la truca cc ricopri tu quindi per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo lasciate un bel mi piace se si subito il canale campanellina e come sempre ciao